Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Messina Benevento. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16, in compagnia di Mr. Ghettano Oteri. Iniziamo subito con le domande. Franco Santo, 8 Channel, prego. Buonasera. Sera. Allora, finalmente una settimana più lunga a livello di allenamenti, insomma. Però a livello di recuperi credo che solo Ferrara possa essere disponibile tra quelli che avevano avuto qualche problema. Come stanno i vari Acampora, Pinato, Meccariello? Acampora, sì, beh, Ferrara sta bene come Borello. Acampora preferiamo ancora gestirlo qualche giorno per rimetterlo con noi dalla settimana prossima una settimana più lunga di lavoro, però sta bene. e Pinato, vabbè, avete visto, faremo ulteriori accertamenti, vediamo, dentro due o tre giorni vedremo il percorso da fare e poi il resto tutto ok. Meccariello? Meccariello, piccolo fastidio, adesso vedremo, ma niente di che, sono piccole situazioni. Sì, in un iniziante ha preso un colpa, un dito, ma niente di particolare. Invece, partiamo da questa situazione che il Benevento ha sempre vinto in casa, vinto, convinto, e regalato anche spettacolo, però fuori casa, in trasferta, insomma, qualche problema finora, diciamo, tra virgolette, l'ha avuto. Cosa manca, ecco, alla squadra per pareggiare i conti tra casa e trasferta? Da parte nostra, in queste partite che abbiamo fatto fuori casa, ci è mancata un po' la continuità nei 90 minuti, abbiamo giocato quello che in casa riusciamo a fare meglio, ma non c'è una differenza nella nostra mente, nel nostro approccio alle gare fra in casa e fuori. Sono sicuro che è un fatto episodico, sono sicuro che manifesteremo continuità anche all'interno delle partite fuori casa. Premo restando che a volte si guardano soltanto i risultati, non è che noi avremmo meritato di perdere quelle partite che abbiamo perso, così come alla fine ad Altamura potremmo anche non vincere, quindi alla fine i punti che abbiamo fatto sono quelli. Però alziamo il livello delle prestazioni, ma non c'è una differenza di atteggiamento da parte nostra fra le partite in casa e le partite fuori. Buonasera mister, dalla partita di domenica si aspetta una partita diversa rispetto comunque alle altre due che avete giocato in trasferta, comunque il Messina è una squadra che ha bisogno di punti certamente, ma che comunque anche l'anno scorso lei l'ha vista nel ritorno qui qui a Benevento, abituata comunque a giocare a viso aperto anche un po' per la filosofia del suo allenatore, quindi si aspetta una partita che per come verrà impostata potrà esaltare le caratteristiche del Benevento anche per il campo, anche se il manterboso di Messina non è mai stato insomma dei migliori, quindi da questo punto di vista si aspetta una partita diversa rispetto alle due precedenti giocate fuori casa. Ma non è che se noi accettiamo o troviamo avversati che accettano il confronto abbiamo vinto in partenza, Messina è una squadra tosta, costruita bene da un direttore come Peppino Pavone che vabbè conosciamo tutti e che la sa lunga nell'andare a scovare giovani, è un misto tra giocatori di esperienza e giocatori giovani, ben pescati, ben allenata, perché le squadre di modico sono ben allenate, quindi non è che noi per il fatto che l'avversati si è una squadra vivace, una squadra che sta bene fisicamente, una squadra che accetta il confronto, una squadra che ti aggredisce, che gioca, che verticalizza, che mantiene gli equilibri, valori anche importanti, ma questo non vuol dire nulla, è che noi dicendo ah sì già partiamo, l'avversato accetta il confronto, no la sfida deve avvenire in campo, ci sono le condizioni per far emergere, per fare soprattutto emergere i contenuti tecnico, tattici, fisici all'interno della gara, ma noi dovremmo fare rispetto a quelle precedenti fuori casa una prestazione dal primo minuto al minuto numero 100 più continua. Mister, anche in base alle indicazioni che ha ricevuto dalle sostituzioni, possiamo immaginare qualche cambio, soprattutto in avanti, magari uno starita dal primo minuto, anche per dare un po' più di fiducia al ragazzo, al quale nulla va chiaramente contestato in merito all'impegno, gli manca forse quella scintilla che poi per un attaccante è il gollo, quindi immaginare di vederlo dal primo minuto magari più vicino alla porta è possibile. Queste domande mi portano sempre sulle formazioni che io proprio non voglio svelare proprio nulla, su situazioni individuali come quella di Starite che appartiene a un gruppo di lavoro, di tempo ce n'è, la cosa importante è lavorare bene quotidianamente, Starite è un giocatore che da questo punto di vista lavora sempre bene, poi di giocatori che fanno parte della partita ce ne sono sempre 16, sono tanti perché ci sono 5 cambi, quindi 11 si gioca più i 5 cambi e allora non lo so quello che farò, io mi baso sempre su quello che vedo quotidianamente e quotidianamente tutti, dico tutti, non c'è nessuno che è un po' più indietro a parte le situazioni che conoscete, anche lo stesso Ferrara, stanno bene e quindi per me non è facile scegliere, ma ne sceglierò 11 sapendo che poi 5 possono essere determinanti nell'economia della gara e non ci sono mai situazioni legate a formazioni tipo, non mi mettete in difficoltà perché tanto, anche se lo sapessi, forse lo so, forse no, non vi direi mai le mie idee su questo, ma per il motivo è perché preferisco prima dare la notizia ai miei giocatori piuttosto che il giocatore lo debba leggere da qualche articolo, ecco. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego. Mister, buonasera, è evidente che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento e secondo lei qual è il prossimo step da fare proprio in vista di Messina, proprio a Messina? Non lo so, allenarsi bene quotidianamente, impattare gli avversari di turno che hanno tutti caratteristiche diverse, migliorare l'atteggiamento e la continuità all'interno della prestazione, sono tanti gli step che si possono fare, siamo appena alla settima partita, possiamo crescere come squadra in tante situazioni, possiamo crescere ancora individualmente, grandi e piccoli, grandi significa i giocatori un po' più esperti, i giocatori che hanno meno presenza, ma questo tipo di atteggiamento c'è, quindi possiamo crescere sotto tanti punti di vista, io so che deve crescere individualmente in alcuni aspetti, che poi alla fine un giocatore, una squadra, ognuno di noi ha pregi e difetti, la bravura è evidenziare i pregi e nascondere i difetti, che ognuno di noi ha, non c'è nessuno che non abbia difetti, in questo caso farlo calcisticamente, e quindi la bravura sarà in quello, in eliminare i difetti ed esaltare i pregi. Gianluca Napolitano, NTR24, prego. Sera mister, pur sapendo già la sua risposta, però gliela faccio lo stesso questa domanda, ecco stare dopo poche giornate per due volte al primo posto, ecco come gruppo, come è stata recepita questa cosa, si vive in tranquillità, non ci si pensa, oppure insomma si lavora meglio, ecco volevo sapere un po', anche se ovviamente insomma il primo posto in classifica a questo punto del campionato conta poco, però volevo capire un po' la squadra, ecco come recepisce questa prima posizione in classifica che comunque insomma c'è. Ma è chiaro che quando fai risultati si vive meglio la settimana, è normale, quando non si fanno i risultati, la settimana non si vive benissimo, però lì subentra, quando non fai risultati, deve subentrare sempre un aspetto temperamentale, caratteriale, quindi la viviamo bene la settimana, l'importante è che non trascuriamo mai, non tralasciamo mai, anche in una settimana vissuta serenamente, ma sempre attraverso un lavoro proficuo, quotidiano, l'importante è che non tralasciamo mai l'aspetto temperamentale, caratteriale, agonistico, della gara, perché le gare di calcio non sono solo tecnico-tattica o correre più degli altri, sono anche impatto, sono anche contatto fisico, sono anche vincere i duelli, questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Oreste Tretola, il mattino, prego. Mister, io torno sui singoli, non per chiederle la formazione, ma per chiederle di un ragazzo che purtroppo sta trovando poco spazio e che è Carfora, che è un patrimonio della società, noi siamo sempre un po' attenti anche ai social, qualche settimana fa lui ho notato che ha pubblicato una foto che faceva trasparire un po' di dispiacere, probabilmente è chiaro che non è contento di giocare, gli è capitato anche l'anno scorso di giocare poco, come lo sta gestendo è un patrimonio della società e quindi immagino che sia comunque delicato non farlo giocare perché comunque c'è tanta concorrenza, lei da allenatore esperto come sta gestendo il ragazzo, soprattutto dal punto di vista caratteriale dell'umore? Io non vado tanto sui social, però adesso ho ascoltato una cosa che non conoscevo, ma di cui me ne sono reso conto in campo, fino a prima di quel piccolo problema al piede, Carfora molto bene, da quando è ritornato non bene, questo ce l'ho detto anche a lui, perché vuole strafare, ha perso un po' di sicurezza e convinzione, io gliela do, dopo deve fare anche così, pur essendo un 2006 e quindi capire che quando si sbagliano gli atteggiamenti si diventa un po' vittima di che cosa, non si capisce bene, è un modo anche questo per crescere, ma siccome Carfora è un ragazzo che stimo personalmente e anche calcisticamente, professionalmente, ne verrà fuori da questo piccolo momento in cui, perché Carfora è un 2006 che c'ha qualità, continuerà a fare un percorso di lavoro importante con noi, tempo al tempo verranno anche le opportunità per lui, le dovrà saper cogliere, per quello che sta facendo in questo momento non è tanto tranquillo in allenamento, in questo momento le coglierà poco, ma sono sicuro che cambierà l'atteggiamento. Roberto Corrado, Cronica e del Sannio, prego. Mister, la mia è una curiosità, avendo affrontato l'anno scorso il Messina al Vigorito, che effetto le fa tornare al San Filippo d'avversario dopo l'esperienza di due anni fa? Nulla, è stata un'esperienza veramente da poco, non felice, nessuna cosa particolare. Franco Santo, Otto Channel, prego. Sì, non per parlare ancora di singoli, però volevo sapere come stava Borello, perché lui è rientrato la settimana scorsa e con lui, diciamo, senza Acampora, finalmente con lui c'è la possibilità anche di cambiare un po', di mettere il giocatore tra le linee, lui, insomma, diciamo, è molto più vicino ad Acampora rispetto ad altri, no? Beh, sono caratteristiche diverse, Borello ha recuperato, è chiaro che non è un giocatore che è al top in questo momento, avrà bisogno ancora di qualche settimana di lavoro, un giocatore che ha certe caratteristiche, poi è molto duttile tra l'altro, quindi ci dà possibilità in più, lui come altri giocatori che in questo momento sono fuori, come Acampora, di volta in volta vedremo l'importante avere queste possibilità, queste armi, perché sono tutte armi in più per noi, che poi come ho detto prima, all'interno delle gare se ne giocano due, tre diverse tatticamente, quindi avere giocatori con caratteristiche diverse che possono provare a cambiare l'inizio della gara, perché tanto noi come atteggiamento e come mentalità ed è quello di cui dobbiamo andare alle ricerche, giochiamo con l'atteggiamento della squadra che vuole vincere, questo non significa che ci sentiamo superiori agli altri o che scadiamo nella presunzione, il nostro atteggiamento tecnico, tattico è improntato a provare a fare meglio dell'avversario, sotto tutti i punti di vista, poi ci riusciremo, io me lo auguro, ci alleniamo per quello e vedremo di volta in volta. Bene, la conferenza stampa termina qui, grazie mister, buona serata a tutti.